Buongiorno, allora, ho visto che anche dai vostri informazioni che le ricariche sono arrivate. Chi non l'ha ricevuta ieri, la sta ricevendo in questa mattinata, perché anche perché dopo mezzogiorno e mezza i post italiani non funzionano. Sono moderatamente contento, perché visto che buona parte di voi ha mantenuto la stessa cifra, alcuni hanno avuto degli aumenti, purtroppo alcuni hanno avuto delle diminuzioni. Allora, per chi ha subito delle decurtazioni, se avete lo speed o il PILS e vi funziona ancora, andate a vedere il vostro profilo personale. È l'unico modo per capire quali sono le ragioni di questa decurtazione. Se non avete questa possibilità, rivolgetevi a un CAFUS. Vi direi anche di chiamare il numero telefonico dell'INPS, 06-164-164-800-164 dal telefono fisso, che ormai non ce l'ha quasi più nessuno. Però sapete cosa si va incontro? Attesi lunghe e sperare che quello che ti risponde sia anche veloce, perché sennò cade la linea e che sia competente. Il CAF è anche la soluzione migliore, perché se c'è da fare qualche pratica, siete già lì. Ma se potete entrare con lo speed, andate nel vostro fascicolo personale del reddito e cliccate sulla cifra, su quella che vi hanno erogato. Lì compare la schermata in cui ci sono i dati e la presenza di eventuali decurtazioni o recuperi di somme non dovute. Questa è molto rara, perché c'è da dire una cosa, che i calcoli sono abbastanza corretti da parte dell'INPS, anche perché non li fa soltanto lì, quindi vengono incrociati con le agenze delle entrate. Nel caso, così sapete esattamente quali sono le motivazioni. Ovvio che se lì non compare niente, vuol dire che la cifra che ricevete è calcolata sul vostro ISE. Ecco, se la diminuzione è sostanziale rispetto a quello che prendevate, cioè se uno prende 500 e gli hanno tolto 20 euro, non gli dico neanche di sbattersi, non avrebbe senso. Ma se uno su 500 gli hanno tolti 200, andate subito a fare l'ISE corrente. Fate l'ISE corrente per rettificare la situazione, perché, ve l'ho detto, questo ISE fotografa la situazione di due anni fa, l'ISE corrente fotografa la situazione degli ultimi sei mesi, quindi è diverso. Ricordandovi che comunque l'ISE corrente vale sei mesi, quindi se lo fate adesso, poi ad agosto dovrete rifare, a luglio, sì scusatemi, a luglio, luglio-agosto, ecco, diciamo dovrete rifarlo. Questo è importante. E comunque quando vi dico di appoggiavi a un car c'è sempre un motivo. Allora, c'è anche da fare alcune considerazioni sullo stato effettivo dei servizi, perché, allora, ancora oggi non c'è, da mobile non si accede, non si accede ai dati. Il video che ha fatto Elena sulla console, glielo ho suggerito io, glielo ho spiegato io, ci siamo sentiti prima, non era tanto fare una boot ad. Ci sono più console nelle case degli italiani di quanti PC, di quanti ci siano computer. O ci sono un buon numero di tablet, che basta che non abbiano un processore dell'anteguerra, ecco. Qualcuno ha il Mac, quindi non ha il PC. Ecco, siccome il problema è l'accesso da mobile, la console, il tablet, il PC e il Mac utilizzano un accesso diverso e questo vi consente di entrare nei dati, i mobili per ora no. Per quello che abbiamo suggerito le console, perché ci sono tantissime famiglie che hanno la console ma hanno il PC. E la console, bisogna ricordare, funziona, ha dentro un po' la gestione del browser, cioè dell'accesso di rete, è quella del PC. E solo quella non era una buttada allegra, è un modo per bypassare un problema, ecco. Al netto di questo, se qualcuno deve fare, se qualcuno è decaduto il reddito vada subito a fare, ecco anche qui, se qualcuno è decaduto il reddito deve rifare la domanda. Mi hanno segnalato problemi proprio anche, accedendo dal mobile, parte che la schermata non va, quindi non si riesce a caricare la domanda. Ma in alcuni casi, chi ci è uscito può essere trovato la domanda cancellata. Per questo vi dico, andate a un CAF. Perché almeno avete una coppia della domanda. Avete una prova fisica che la domanda l'avete fatta. Perché se voi mettete i dati, pensate di stare tranquilli, e poi il sistema ve li cancella. Voi non avete pezzi per dire all'IMS che ha sbagliato. Quello è il vero motivo. Non è tanto la competenza o l'incompetenza, ma il rischio di non avere prove che voi la domanda l'avete fatta. Adesso in questo periodo i CAF, non avendo tutti gli ISI addosso, possono anche lavorare in maniera un po' più serena, e quindi essere più veloci anche nello smaltire le cose. Ultima cosa, velocissima. Comunque ho promesso, e devo sempre ringraziare sia la Loredana che Giovanni, per le loro giustissime critiche, però una considerazione la devo fare sul DCPM di Draghi. Scusate, stavo per dire di Conte, ma c'è un motivo. Dove sarebbe la discontinuità? Io il discorso di Draghi l'ho sentito. C'è infilato dentro la parola semplificazione, e questo di PCM è scritto in burocratese puro. Discontinuità questo di PCM segue le stesse linee di Conte. E quindi perché abbiamo tenuto le stesse persone che creavano i problemi a Conte e sono state tenute ancora in questo governo? Cioè un arrogante incompetente come Acuri, e un pavido col paraocchi come Speranza. Perché Speranza si preoccupa del suo orticello. Tutto quello che succede al di là del suo orticello non è una mia responsabilità. Mi ricorda un po' le tre scignette. Non vedo, non sento, non parlo. Cioè il fatto che l'economia italiana sia stata devastata, il fatto che lo stato psicologico degli italiani sia allo stremo, gli italiani non ce la facciano più, a Speranza non interessa, perché il suo discorso in Parlamento è tipico di una persona, e mi fa arrabbiare ancora di più perché è della mia parte politica, che non ha la minima considerazione per le sofferenze del popolo. Bisogna resistere, bisogna resistere. È comodo dire bisogna resistere quando tu ti becchi in tasca. 13 mila euro al mese se va male. Perché, scusatemi se lo dico, agli italiani hanno chiesto in un anno sacrifici spaventosi, in tutti i sensi, compreso la perdita delle libertà civili. Ma mi dite quali sacrifici hanno fatto i politici in questi anni? Non solo quelli del governo, ma anche quelli delle regioni, eh? Mi dite quanti sacrifici hanno fatto i politici in questo anno, che è stato un anno orribile per gli italiani? Nessuno. Quindi, bisogna dirlo, perché io non sono un ipocrita, secondo me la Meloni ha fatto benissimo stare fuori da questa, da questo governo che non è assolutamente discontinuo con le politiche distruttive di quello precedente. Politiche non di Conte, ribadisco, perché Conte è un aperturista. Politiche gestite da un comitato che si preoccupa più di andare in televisione che di fare il proprio lavoro, di creare allarmismo e terrorismo psicologico più che fare il proprio lavoro, e di un ministro assolutamente non all'altezza delle necessità. e se vedessi domani il fatto, o oggi non lo so, perché non ho ancora guardato i quotidiani, che mi scrive dove è la discontinuità tra Draghi e Conte, io non potrei che dare ragione a Travaglio, perché qui di discontinuità non ce n'è. però in compenso hanno perso un mese secco sul decreto Ristori e su un sacco di altre cose. Quel mese secco sono soldi che gli italiani sarebbero dovuti andare. Quello che ho capito io è che chiedere sacrifici agli italiani è facilissimo, poi si può sempre fare come la Fornero e farsi un bel pianterello in diretta, ma sacrifici loro? No. E non si stupiscano se gli italiani non li possono più vedere. Buona giornata. Dopo verrà caricato un video lungo, vi avviso, di storia napoleonica, che è su richiesta di una ragazza che è nella Gilda Conquista, nell'alleanza adesso, di un gioco online con mio fratello, sua moglie e una delle mie nipoti. siccome è arrivata questa cosa, mi ha chiesto se potevo parlarne un video su Napoleone, lo carichiero dopo, vi avviso che è molto lungo. Buona giornata a tutti.